Musica Lavoratori di Linsitino allo stabilimento di Gela continua la protesta degli operai della Turco Costruzioni per i 41 licenziamenti e le mensilità retrate. Martedì 6 febbraio è previsto un incontro in prefettura a Caltanissetta. Stati generali della CGL Funzione Pubblica, ecco il nuovo contratto della pubblica amministrazione, spiegati dai responsabili sindacali i miglioramenti ottenuti. Guardando il cielo per scoprire le stelle, mostra di astronomia a Caltanissetta a cura dell'associazione Orsa Minore, appuntamento nella chiesa di San Domenico. Da un derby all'altro, il Gela dopo il pari di domenica scorsa con Messina, domani sarà di scena a Barcellona contro Ligia Virtus. I biancazzurri sognano il colpaccio, trasferta vietata ai tifosi gialesi. Musica Licenziamenti e stipendi arretrati continuano la protesta dei lavoratori della Turco Costruzioni per i 41. la perdita del posto di lavoro da parte di 41 operai e per il mancato versamento di tre mensilità. I dipendenti della ditte di Ile hanno inscenato anche questa mattina un sit-in davanti ai tornelli dello stabilimento, reclamando i propri diritti, in attesa del vertice in prefettura in programma per martedì 6 febbraio. Attualmente le nostre famiglie sono un po' in difficoltà ad andare avanti, abbiamo fatto tanti sacrifici, abbiamo aspettato la nostra società che ci compensava. Si metteva in riga con i pagamenti, abbiamo fatto delle carte scritte anche alla Conventusca e ci hanno detto che praticamente noi avevamo questo accordo che dovevano rispettare, non l'abbiamo aspettato fino all'ultimo giorno e ora siamo qua disperati a cercare che Eni o chi di dovere ci aiuti a risolvere questa situazione e non perdere anche i posti di lavoro, perché sicuramente non lo so se saranno anche di più, perché ora non sappiamo il nostro dotatore di lavoro se prenderà altri provvedimenti. Il morale degli operai di noi tutti è abbastanza basso, le nostre famiglie purtroppo vivono una situazione oggi, chiamiamola disperata, perché questo è il termine giusto da usare e quindi non si riesce ad andare avanti e questo è stato un gesto di disperazione che ha dato svolta a questa protesta. E quindi noi siamo qui, continuiamo, aspettiamo delle risposte, aspettiamo che qualche ente di competenza o qui di dovere ci aiuti e ci dia un aiuto questa volta serio. Lavoratori della Turco Costruzioni in sciopero, Sittin davanti all'indotto, qual è la situazione? Il sit-in di protesta continua, i turni vengono effettuati regolarmente, i lavoratori assieme alle organizzazioni sindacali hanno deciso di allendare la morsa, anche perché siamo in attesa di una convocazione già programmata per il 6 febbraio in prefettura a Caltanissetta e dovrebbero esserci la raffineria, la Sintial e tutte le aziende che sono presenti nel territorio per cercare di sbloccare questa difficile vertenza. Come si sentono i lavoratori? Quali sono gli animi? C'è un po' di preoccupazione, soprattutto per quanto riguarda la perdita del posto di lavoro, perché l'azienda già da tempo ha un esubero strutturale, l'abbiamo più volte cercato di risolvere, ad aprile dei lavoratori sono stati trasferiti in altre aziende all'interno dell'indotto, l'azienda ha perso il contratto per quanto riguarda i ponteggi, per cui ci ha notificato e abbiamo fatto un incontro all'ufficio provinciale del lavoro dove ha detto che i licenziamenti non intende fare un passo indietro perché l'esubero secondo lei c'è e pertanto ha avviato le procedure. Noi naturalmente abbiamo contestato le procedure dicendo che non siamo d'accordo perché il lavoro per ora c'è, anche se non c'è l'azienda Turco, assieme alla raffineria, assieme alla prefettura, assieme alle organizzazioni sindacali, non solo di categoria, ma assieme a CGL e Cislovill vedremo di trovare la soluzione per spalmarli in altre aziende. La protesta dunque continuerà finché non ci saranno maggiori sicurezze per i posti di lavoro? La protesta non solo continuerà, se non ci saranno sbocchi per l'avvertenza in atto non si escludono altre azioni ancora più eclatanti rispetto a quelle che sono state fatte perché vogliamo difendere il lavoro e i posti di lavoro. Serata movimentata quella di ieri per i carabinieri di Riesi che nel corso dei consueti servizi preventivi hanno arrestato un cittadino rumeno di 32 anni per resistenza, violenza, minaccia, lesioni e pubblico ufficiale e danneggiamento seguito da incendio e porto abusivo di arma. Il militare dell'arma, dopo aver rinvenuto un'auto, una Volkswagen Golf priva di copertura assicurativa e procedendo agli accertamenti e ai provvedimenti del caso sono stati interrotti dall'uomo che in forte stato di alterazione psicofisica legata verosimilmente all'abuso di alcol con un grosso coltello da cucina ha oltraggiato e minacciato ripetutamente i carabinieri procedendo a tagliare i pneumatici del veicolo e scagliando contro i militari dell'arma alcuni oggetti prelevati dal cofano del mezzo il rumeno inoltre ha piccato le fiamme alla macchina fuggendo a piedi per le vie circostanti e disfacendosi dell'arma a quel punto è scattata la caccia all'uomo conclusesi poco dopo durante l'azione due militari sono rimasti levemente feriti sono stati curati all'ospedale di Mazzarino il cittadino rumeno adesso si trova recluso nel carcere di Caltanissetta e la polizia del commissariato di Gela ha eseguito 5 arresti nell'ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio Manette per Giovanni Rinzivillo, 30 anni, destinatario di un provvedimento della magistratura è accusato di minacce gravi, detenzione porto illegale di arma comune da sparo ed esplosione in luogo pubblico di colpo di arma da fuoco colpendo una finestra dell'abitazione di una vittima l'episodio è accaduto a Gela lo scorso marzo Alessandro Frasca, 34 anni, è stato arrestato per concorso in trasporto di materiale speciale l'ordine di carcerazione è stato messo dal Tribunale Ordinario di Agrigento il 29enne Alessio Bartoli deve scontare ai domiciliari 15 giorni per concorso in lesioni personali è stato condannato per reati gravi contro la persona e il patrimonio il giolese Pietro Caruso, 34 anni, deve spiare tra le mura domestiche 10 mesi e 10 giorni Giacomo Cassarà, 49 anni, in carcere, dovrà scontare 2 anni e 6 mesi per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli 2 le persone denunciate, un quarantenne dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza alcolica ed una cittadina rumena di 35 anni è stata segnalata per ricettazione di un telefono cellulare di provenienza furtiva complessivamente sono state controllate 649 persone ed ispezionati 727 veicoli 7 le perquisizioni effettuate e 12 le multe elevate per inosservanza del codice della strada hanno deciso di spiegare a tutti gli appartenenti al sindacato provincia per provincia un nuovo contratto di lavoro delle pubbliche amministrazioni in un albergo cittadino i dirigenti regionali e nazionali e locali del sindacato CGL Funzione Pubblica si sono riuniti per parlare dei vantaggi dell'accordo firmato di recente e di quanto ancora c'è da fare per tutelare il ruolo dei lavoratori subordinati si è parlato del ruolo gerarchico dei dirigenti di come cambiano le funzioni e i doveri di chi sta all'apice dei ruoli gestionali ma anche di contributi e innovazioni contrattuali per un comparto ovvero gli impiegati pubblici fermo da tempo anche con il blocco delle assunzioni al tavolo dei relatori oltre a rosanna moncada florindo oliviero coordinatore nazionale delle funzioni centrali della CGL Funzione Pubblica ed il segretario generale Sicilia Gaetano Agliozzo. È una conquista perché dopo nove anni riusciamo a portare a casa un grosso risultato frutto delle battaglie che come CGL abbiamo messo in campo nel corso di questi ultimi anni con grandi mobilitazioni e soprattutto risultato importante siamo riusciti a salvaguardare anche il bonus degli 80 Euro, quindi l'incremento contrattuale ulteriore 85 Euro non vanno ad intaccare il bonus degli 85 Euro, quindi una doppia conquista per i lavoratori e un punto di partenza perché noi contiamo già a ottobre di iniziare la nuova trattativa per il biennio economico 2019-2020, ci permette di avviare già da subito la concertazione nei posti di lavoro perché Brunetta aveva bloccato un po' la concertazione con le organizzazioni sindacali, quindi ci sono tutte le condizioni per ripartire, noi vogliamo un modello di pubblica amministrazione efficiente, ci sono le condizioni, abbiamo delle norme che abbiamo inserito nel contratto che permetteranno alle organizzazioni sindacali e soprattutto alle RSU di svolgere un ruolo attivo su quelli che sono i processi di innovazione anche all'interno della pubblica amministrazione, quindi un contratto che dà risposta ai lavoratori, sblocca, fa partire la concertazione e guarda all'utenza e guarda soprattutto ai nuovi processi tecnologici che si stanno avviando all'interno della pubblica amministrazione perché vengono ridotti i contratti, ci sarà un contratto unico per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e sicuramente noi guardiamo avanti proprio per andare poi a rivedere con una commissione un nuovo modello ordinamentale che è uno dei punti cardini per il buon funzionamento della macchina amministrativa della pubblica amministrazione. La sottosezione dell'Unital si digela in occasione della 26esima giornata mondiale del malato come ogni anno si prepara a rendere omaggio alla Madonna di Lourdes con le varie celebrazioni in programma. Domani, domenica 4 febbraio alle 15, celebrazioni eucaristiche e processione nei reparti presso la Casa di Cura Santa Barbara. Domenica 11 febbraio alle 17.30 le celebrazioni si concluderanno in Chiesa Madre con la recita del Santo Rosario. Alle 18, celebrazione eucaristica preseduta dal parroco Don Vincenzo Culcraro. Per l'occasione saranno presenti le associazioni di volontariato. Quarantesima giornata per la vita, sono tante le iniziative in programma Gela promosse dai gruppi Famiglia, Centro Aiuto alla Vita e Associazione Gela Famiglia. Domani, domenica 4 febbraio alle 18, celebrazione eucaristica nella parrocchia San Sebastiano, prevista anche la benedizione delle mamme in attesa. Concerto del trio Federica Mosa, Violino, Nicola Malagugini, Contrabbasso e Mirea, Zuccaro, Piano Forte. Domani, domenica 4 febbraio al Palazzo Principessa Pignatelli Roviano di Gela. L'iniziativa rientra nel cartellone dell'84esima stagione concertistica gelese, promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra, con il patrocinio della Regione e del Comune. Il direttore artistico, il maestro Crocifisso Ragona. Appuntamento col teatro all'antidoto di Machitella Gela. Domani, domenica 4 febbraio alle 18, sarà portata in scena E se capita a statia, commedia in due atti di Nino Di Maria. La regia è di Luigi Licata. Info, telefoni 0933 82 27 07 e 338 71 43 293. Piccoli crimini coniugali con Michele Placido e Anna Bonaiuto. Appuntamento al Teatro Comunale Eschilo per giovedì 15 febbraio alle 21.15. Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Telefoni 0933 91 18 92 e 345 588 0580. Ammassi stellari, costellazioni, galassie, nebulose. 30 straordinarie immagini, di cui 9 foto e 21 in digitale, esposte in 10 pannelli per scoprire la straordinaria bellezza dello spazio. È la mostra allestita dall'Associazione Orsa Minore di Caltanissetta nel Salone della Parrocchia San Domenico. Un'iniziativa per far conoscere l'astronomia ai neofiti e farli avvicinare a questo affascinante mondo, grazie anche a una conferenza che si è svolta lo scorso sabato. Durante la giornata abbiamo fatto una conferenza inerente proprio alla BC dell'astronomia. Abbiamo coinvolto delle persone esterne, tra cui la professoressa Pietro Maria Petitto, del liceo scientifico Alessandro Volto, che ci ha confermato come partnership per l'anno scolastico in corso. Faremmo diverse manifestazioni insieme a loro, proprio a livello istruttivo. La serata abbiamo anche mostrato quello che noi siamo capaci di fare con la nostra strumentazione, portando la mostra fotografica, diversificandola dall'aspetto pellicola a quello digitale. Abbiamo avuto anche un collegamento diretto con un nostro astrofilo associato, Luca Perna, che si trovava a Padova, proprio davanti alla porta di Galileo Galilei, spiegando proprio la storia dell'astronomia da dove nasce. Siamo riusciti a festeggiare insieme i nostri 15 anni e abbiamo proprio voluto soffermarci al centro storico di Calta Insetto. Una mostra che ha riscosso successo, tant'è che gli organizzatori, d'accordo con padre Alessandro Rovello, hanno deciso di lasciarla allestita per qualche giorno per essere ammirata. La parrocchia San Domenico si è aperta a una bella iniziativa dell'associazione Orsa Minore, un'associazione di astrofili della città di Caltanissetta. Qui nel nostro salone parrocchiale è stata fatta una interessante conferenza che ha portato alla conoscenza dell'ABC, dell'astronomia, e ha visto il coinvolgimento di tante persone, ragazzi, adulti del nostro territorio. Un momento importante di riflessione, di confronto, di scoperta di una parte della storia e della geografia astronomica. E mi è sembrata un'iniziativa importante anche per la crescita e per il benessere delle persone del territorio di San Domenico. Giocare al massimo delle proprie forze è come se fosse una finale. Non sono più messi passi falsi. A cominciare da domani la zona playoff attende ancora il Gela e adesso tocca proprio al Gela non perdere ulteriori contatti con la zona nobile della classifica, distante 7 punti. A cominciare da domani. E domani al Dal Contres di Barcellona Pozzo di Cotto c'è il derby con Ligia Virtus. Da un derby all'altro. Archiviato quello di domenica scorsa, col Messina ha finito 0-0 e con tutte le conseguenze nefaste che ha avuto squalifica per quattro giornate a Polito e campo chiuso domenica prossima con l'Ercolanese i biancazzurri devono assolutamente ottenere punti pesanti. È chiaro che non sarà facile in merito alla consistenza dell'avversario ma il team allenato da Nicola Terrenova deve provarci fino all'ultimo. Un colpaccio in trasferta manca da tantissimo tempo. Domani ci aspetta una partita sicuramente difficile perché incontriamo una squadra che sta facendo un ottimo campionato sta bene fisicamente, fa un buon gioco quindi sicuramente ci aspetta una partita difficile però noi veniamo da un punto con Messina dove abbiamo creato un'altra squadra che in questo momento sta bene è stata una partita abbastanza equilibrata comunque adesso dobbiamo cercare di fare qualche punto anche fuori casa per non distaccarci troppo dai pre-off. Quattro punti nelle ultime tre partite per il Gela pochissimi se si vuole puntare alla zona play-off? Sì certo, bisogna perdere i meno punti possibili in questo giorno di ritorno le partite sono sempre meno quindi bisogna guardare partita e partita e ogni partita cercare di prendere i più punti possibili in questo inizio abbiamo incontrato squadre di alta classifica sicuramente ci manca qualche punticino che un po' più di fortuna forse avremmo avuto però va bene, adesso bisogna guardare avanti e partita per partita. E' una Gela dunque che punta a play-off? E' una Gela che deve cercare fino all'ultimo di rimanere agganciato ai play-off e cercare di ottenerli anche all'ultima giornata però riuscirci. Il mister purtroppo ha delle difficoltà oggettive perché non riesce a mettere mai in campo l'identica formazione della domenica prima tra squalifiche ed infortuni. Sì questo è vero però comunque la rosa è abbastanza ampia ci sono tanti giocatori pronti a dare una mano quindi da questo punto di vista possiamo stare anche un po' sereni però giustamente dare continuità a una formazione è sempre una cosa importante. Nelle prossime due domeniche non avrete tifosi perché a Barcellona è stato vietato loro di andarci poi la domenica dopo con l'Ercolanese il campo sarà intradetto proprio al pubblico dunque giocherete due volte in campo neutro. Sì quindi a maggior ragione lo abbiamo specialmente in casa senza l'aiuto dei tifosi dobbiamo duplicare le forze e cercare comunque di darci la mano noi e dedicare una vittoria anche a loro. Ecco le partite in programma domani si giocherà la ventiduesima giornata Ebolitana-Nocerina Ercolanese-Cittanovese Igia Virtus-Gela Messina-Gervison Palazzolo-Isola-Caporizzuto Palmese-Portici Roccella-Troina San-Cadaldese-Paceco Vibonese-Acireale La classifica è la seguente Toloina-47 Vibonese-43 Igia Virtus-41 Nocerina-39 Ercolanese-36 San-Cadaldese-Eda-Cireale-32 Gerbison-Ecittanovese-30 Gela-29 Messina-28 Portici-24 Palazzolo-Eroccella-22 punti Palmese-21 Ebolitana-18 Isola-Caporizzuto-8 Chiude il Paceco con 7 punti. E in edicole il nuovo numero del Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità, politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale. Questi gli argomenti più importanti di questo numero. I sette candidati gelesi in campo per Camera e Senato. Una carrellata su chi sono e per cosa concorrono nell'articolo di apertura del giornale a firma di Filippo Guzzardi. Giulio Cordaro nella sua rubrica Politicamente scorretto scrive sui colpi bassi sferrati da candidati e partiti in questa fase calda della campagna elettorale. Filippo Antinoro firma l'intervista all'assessore all'urbanistica Giambattista Mauro, il quale punta alla valorizzazione del patrimonio comunale per attirare nuove risorse per la città. All'interno articoli e servizi di attualità e cultura. C'è poi la pagina dello sport, le aste giudiziarie e gli annunci economici gratuiti.